Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato da Rossini Editore che è La Cerca del Santo Graal, introduzione, traduzione e note a cura di Paolo Spaggiari che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite e che ci parlerà di questa ricerca del Santo Graal, quindi come mia abitudine io lascio subito la parola all'autore. A te Paolo. Grazie Maurizio, un saluto a tutti gli amici di Italia Medievale. Allora oggi parliamo di un sogno che avevo nel cassetto, dopo aver lavorato a diverse traduzioni dall'antico francese, ho finalmente deciso di realizzare una nuova traduzione della Cast del Saint Graal, quindi La Cerca del Santo Graal, accompagnata da introduzione e note. Ci ho messo un paio di anni, è stato un lavoro lungo e impegnativo, ma alla fine ci sono riuscito ed eccoci qui. Allora, La Cerca del Santo Graal è un romanzo allegorico della prima metà del XIII secolo, siamo intorno al 1225-1230 circa, fa parte di un importante ciclo cavaleresco, il ciclo Lansello Graal, anche conosciuto come ciclo della Vulgata, quindi si tratta di materia arturiana ed è una delle principali opere che hanno come tema appunto il Graal. Ora, il protagonista Galad, figlio di Lancillotto, è destinato a porre fine agli eventi sinistri che da tempo immemore affliggono il regno di Locres, quindi il regno di Re Artù, ormai definito Terra Guasta. 150 cavalieri della tavola rotonda partono alla ricerca del Graal, simbolo della grazia divina e unica speranza di salvezza. Come annunciato dalle profezie, solo altri due cavalieri insieme a Galad riusciranno nell'impresa, Perseval e Bohort. Dopo lunghe e pericolose avventure, i tre compagni giungono in oriente, nella città di Sarraz, dove il Graal compie il suo ultimo atto terreno. Diciamo questa è la trama in breve, però come vedremo il testo offre differenti approcci diversi livelli di lettura. Innanzitutto bisogna dire che non si tratta di un romanzo cavalleresco come gli altri, come ad esempio il Lancillotto in prosa, che è il testo che precede la cerca nel ciclo appunto Lancelot-Graal di cui parlavamo prima. Mantiene sempre la stessa estetica, diciamo, dei romanzi cavallereschi, ma la sua forma, la sua finalità sono differenti, quindi non mancano le avventure, i cavalieri, i duelli e i colpi di spada, ma la grande differenza sta nei contenuti morali e teologici che il testo offre continuamente per mezzo di monaci ed eremiti ai quali i cavalieri si rivolgono per chiarire i loro dubbi e soprattutto le visioni e i sogni legati alla manifestazione del Santo Graal. Ora, se il Lancillotto è il romanzo cortese per eccellenza dove l'esaltazione della passione tra il protagonista e Ginevra esprime pienamente la fin amor, quindi l'amor cortese, la cerca rappresenta la sua controparte cassa e spirituale. Questo romanzo allegorico, intriso di mistica cristiana e scritto con probabili finalità didattiche, si pone in aperto contrasto con le pulsioni terrene appunto narrate nei comuni romanzi cavallereschi come il Lancillotto. Questi esaltano la cavalleria laica, gli amori, i tornei e gli ori, mentre la cerca guarda alla cavalleria celeste, quindi alla purezza e al sacrificio. Perciò diventa subito evidente che lo scopo dell'opera non è il puro intrattenimento, il testo mira in qualche modo a evangelizzare il lettore, a divulgare i propri contenuti morali e teologici che, come vedremo, abbracciano diverse sfere pur avendo un quadro globale abbastanza definito. Ora, io prenderò alcuni elementi in maniera separata, poi cercheremo di dare un'idea complessiva dell'opera. Partiamo ad esempio dall'autore. Ora, non sappiamo chi scrive quest'opera allegorica e didattica mascherata da romanzo cavalleresco. Il testo, nel suo explicit, ci lascia il nome, il nome di Walter Mapp, che era un ecclesiastico e scrittore gallese, che però è morto intorno al 1210. Ora, noi consideriamo la stesura della cerca intorno al 1225-1230, quindi sicuramente non può essere stato lui l'autore. C'è chi sostiene comunque che sia stato l'architetto dietro a questo romanzo, poi sviluppato in seguito da altri. Però diciamo che la maggior parte degli studiosi lo considera solamente un espediente letterario. Una cosa è certa. Noi possiamo notare, e lo ha fatto magistralmente Alberto Filet a inizio del Novecento, l'estrazione culturale che aveva quest'autore. Sicuramente conosceva molto bene, dunque era esperto in materia di teologia, e in particolare conosceva bene la mistica cistercense. Quindi possiamo immaginare, supporre che o fosse un monaco cistercense o comunque una figura legata in qualche modo al monachesimo cistercense. Ora andiamo a vedere un pochino il protagonista. Nel romanzo, rispetto ai precedenti del ciclo arturiano, viene introdotto un nuovo personaggio che è Galad, nato da Lancillotto e dalla figlia del re pescatore, quindi una persona di altissimo lignaggio. Solitamente, come ricordiamo, l'eroe del Graal è Perseval, meglio noto in Italia come Parsifal da Wagner in poi. Già nel primo testo in cui il motivo letterario del Graal, quindi sto parlando del Perseval di Christian de Troyes, è appunto questo cavaliere Perseval, nato dalla vedova nella guasta foresta, ingenuo e ignaro delle cose del mondo, ad imbattersi nelle avventure del Graal. Invece nella cerca troviamo un nuovo personaggio, Galad, che muove i fili di tutta l'avventura, e Perseval, insieme a Bort e ad altri, sono personaggi tra virgolette secondari. Ora, perché? A cosa serve questo nuovo personaggio? Allora, intanto si tratta di una figura ambivalente. Galad è da un lato un eroe messianico, per lungo tempo atteso e destinato a riuscire nella cerca e quindi a salvare il regno di Logres dalla desolazione, ma dall'altro è anche un cavaliere giovanissimo, diciamo non è ancora un cavaliere fatto e finito, quindi è ancora in formazione e per questo verrà supportato da altri come Perseval e Bort. Ora, la differenza sostanziale sta nel fatto che Perseval, nell'opera di Christiane de Troyes, è sostanzialmente uno sproveduto, un ingenuo, è sempre vissuto in una foresta, non ha mai visto neanche una spada, non sa cosa sia un cavaliere, addirittura quando un giorno un cavaliere transita per la foresta dove abita, lo scambia per Dio, cioè da questo cavaliere gli chiede, ma è così splendente in questa armatura, addirittura lo scambia per dire quanto sia estraniato dal mondo. Al contrario abbiamo un Galad che sin dalla nascita sa qual è il suo destino, qual è il suo scopo e anche se come abbiamo detto non è ancora del tutto pronto ad affrontarlo, ma c'è un motivo ulteriore. Galad serve all'autore diciamo come modello per diventare il modello di quello che saranno appunto i cavalieri della nuova cavalleria. Ora, vale la pena soffermarsi, credo, ancora un momento sugli altri personaggi della cerca. L'autore, al contrario di quanto avviene normalmente in questo genere letterario, dà una certa importanza alla caratterizzazione dei personaggi. Ora, al di là di Galad, come abbiamo detto, che è proprio un modello. Se Galad è in una certa misura perfetto, gli altri, perdono, gli altri cavalieri perfetti non lo sono affatto, ma questo ha una funzione. Grazie ai loro difetti il lettore può individuare quelli che sono gli elementi che necessitano di essere riconsiderati e quindi migliorati per diventare appunto dei cavalieri celesti e non più cavalieri laici. Prendiamo l'ancillotto. L'ancillotto, ad esempio, sappiamo che è il miglior cavaliere del mondo, però è schiavo delle proprie passioni. Così come Galvano, che è un altro grandissimo eroe arturiano, che però è daedito alla vanagloria, ai tornei, alle ricchezze, alle belle donne. Invece, cavalieri più umili e più dediti a sacrificio, come Perseval e Bort, raggiungeranno il gralla, dove gli altri grandi cavalieri del ciclo arturiano falliscono, appunto come l'ancillotto e Galad. Il testo, inoltre, non trascura la sfera femminile. Ora, lasciamo un attimino da parte Ginevra e le altre dame. C'è un personaggio che in particolare, secondo me, merita attenzione, ed è la sorella di Perseval, di cui però non conosciamo il nome. Il nome non è noto. Allora, questa pulzella offre un supporto essenziale per la riuscita della cerca, dell'impresa, e si può considerare di fatto il quarto compagno della cerca. Quindi, come dicevamo, c'è una certa importanza data ai personaggi dall'autore. Ora, arriviamo a quello che è uno dei temi centrali che abbiamo annunciato prima, che è quello della nuova cavalleria, la cavalleria celeste. Il romanzo fa un costante contrasto tra la vecchia cavalleria, la cavalleria secolare, la cavalleria laica, e la nuova cavalleria, quindi quella sacra, quella celeste. La cerca è una sorta, mi verrebbe da dire, di manifesto del mille scristi in forma narrativa. Ora, perché dico questo? Si potrebbe fare riferimento a un altro autore cistercense, Bernardo di Chiaravalle. E qui rimando abbastanza semplice, sto parlando del De Laude, nove milizie, scritto intorno al 1128, quindi siamo circa un secolo prima della cerca. Opera dedicata a Hugues de Pain, primo maestro dell'Ordine dei Templari, in cui si definisce appunto l'istituzione di una nuova cavalleria frutto della fusione tra oratores e bellatores, quindi chi prega e chi combatte. Bernardo pone l'accento sulla differenza tra la cavalleria secolare, che definisce malizia, e la nuova cavalleria definita milizia. Quindi la prima è peccaminosa, dedita la vanagloria, la ricchezza, i tornei, e la seconda invece è santa perché combatte la buona battaglia. Quindi sembra che l'autore della cerca abbia messo in forma narrativa questa idea di nuova cavalleria, espressa appunto da San Bernardo. Ora, oltre alla nuova cavalleria, abbiamo altri due elementi importanti, che sono la salvezza e l'eucaristia. E tutte e due sono, come vedremo, collegati al Graal. Ora ci diremo, ma in tutto questo il Graal cosa c'entra? Allora, intanto andiamo a definire cos'è il Graal nella cerca. In atto vediamo che trae origine non tanto da Christiane de Troyes, questo Graal della cerca, ma dal materiale rielaborato da Robert de Boron, che è un altro autore francese del dodicesimo secolo. Ora, Boron, nell'anno 1200 circa, scrive il Giuseppe d'Arimatea. È il primo a creare un'associazione tra il Graal e il calice usato da Cristo durante l'ultima cena, in cui nel quale poi Giuseppe raccoglierà il sangue del Salvatore. E questo, diciamo, è quello che è arrivato fino ad oggi nel nostro immaginario collettivo, diciamo, come Graal. Ora c'è un grande però, c'è una grande differenza. Nelle opere di Boron il Graal è un oggetto fisico sostanzialmente che ha un custode, denominato re pescatore, viene trasportato nelle isole britanniche, eccetera, eccetera. Nella cerca questa reliquia, diciamo così, perde parzialmente la sua fisicità, perché si materializza in vari luoghi, può entrare, uscire dai castelli a piacimento, nessuno sa come. Quindi perde un pochino questa fisicità. In pratica, quello che i cavalieri cercano, perché appunto di una cerca stiamo parlando, non è tanto un oggetto fisico, ma le hierofanie del Graal, quindi le manifestazioni del sacro legate al Graal. In pratica il Graal rappresenta Dio, la sua grazia e i suoi misteri. Quindi è una ricerca spirituale. Si sposta un pochino l'attenzione da una reliquia a una ricerca spirituale. Ora, se Boron, come dice una grandissima autrice, pone la cavalleria ai piedi della croce, l'autore della cerca si spinge oltre, perché vede nella cavalleria guidata e istruita dai monaci il faro per la salvezza, addirittura. Galad è un cavaliere apostolo, è una figura cristica che funge da modello appunto per questa salvezza. Ora, noi ci potremmo avvicinare anche all'idea, questo, come viene definito da alcuni, questo Vangelo della Cavalleria parrebbe trovare riscontro anche nelle tre ere della teologia di Gioarchino da Fiore. L'era del padre, l'era del figlio, l'era dello Spirito Santo. Ora, l'era del padre viene associata all'Antico Testamento. Nel ciclo arturiano potrebbe essere rappresentata da Merlino, che istituì la tavola rotonda e profetizzò la venuta di Galad, quindi il modello cristico del Salvatore, appunto, che rappresenta appunto l'era del figlio, quindi il Nuovo Testamento, e si identifica con l'azione del buon cavaliere Galad, che appunto salva il regno. Qual è allora l'era dello Spirito Santo, che per Gioachino è un'epoca futura in cui la fede e la carità illumineranno gli uomini, è un nuovo ordine, guiderà il popolo di Dio alla perfezione cristiana. Potrebbe appunto essere il regno di Dio in terra realizzato dalla nuova cavalleria. Quindi stiamo orbitando intorno a quest'idea. Veniamo a un ultimo elemento, che è l'eucaristia. Ora, è un altro tema preponderante nell'opera. Bisogna tenere presente che pochi anni prima della stesura del testo, siamo nel 1215, abbiamo il concilio lateranense IV, indetto da Papa Innocento III. Cosa succede in questo concilio? Viene fissato il dogma della presenza reale nel sacrificio eucaristico attraverso la transustanziazione, quindi la trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Quindi in pratica, in quel periodo storico, l'eucaristia requista un fortissimo interesse e di grande importanza. Ora, se il graal coincide con il calice dell'ultima cena e il rituale eucaristico rievoca l'ultima cena, il nesso è semplice. Il calice usato dal sacerdote simboleggia il graal. D'accordo? Quindi il nesso è piuttosto semplice. Se il graal contiene, raccolto da Giuseppe d'Arimatea, il sangue di Cristo e insieme all'ostia consacrata anche il corpo di Cristo, lo stesso vale per il calice e la patena usati durante la messa. Quindi il graal nutre tutti i presenti alla sua mensa, il rito eucaristico dona ai fedeni il nutrimento celeste. Quindi in conclusione la salvezza arriva dal graal così come arriva dall'eucaristia. Qui l'associazione è abbastanza semplice. Noi riassumendo abbiamo un testo che ci parla della ricerca di Dio e dei suoi misteri, dell'istituzione di una nuova cavalleria che porterà l'edificazione del regno di Dio in terra, come in cielo così in terra, e della comunione con Cristo tramite il rituale eucaristico, quindi via per la salvezza. Ora, come dicevamo, la Cerca del Santo Graal è un'opera che si presta moltissimi approcci e possiede diversi livelli di lettura. Io personalmente ho affrontato e studiato solo una parte di ciò che può offrire quest'opera. Il lettore potrà scegliere, o attraverso altri studi, di approfondire percorsi differenti. Qualche parola in più magari in specifica su questa edizione. Anzi, in particolare su quest'opera. Mi è stato chiesto, cioè, perché è importante leggere questo romanzo ancora nel 2014? Allora, intanto credo che sia un'opera ancora poco conosciuta, cioè tutti noi in qualche modo abbiamo un'idea di cosa sia il Graal, fa parte del nostro immaginario collettivo, ma poi se andiamo a vedere, nello specifico, pochi hanno letto testi legati al Graal. Questo qui, in particolare, è il testo principale sul Graal per un semplice fatto, è quello che, cioè l'idea del Graal espressa così come nella Cerca, è quella che è sopravvissuta fino al giorno d'oggi, quindi il Calice di Cristo, Giuseppe, Padre Mattea e quant'altro, i Tre Cavalieri, eccetera. Quindi io credo che sia importante già da un punto di vista storico-letterario andare a vedere, appunto, l'origine letterale di questo elemento. L'altro è che si può andare, oltre il, diciamo, il velo letterario, andare a vedere tutte quelle che sono le spinte ideologico-spirituali che animavano la società europea all'epoca delle crociate. Quindi non solo leggere un bel romanzo cavalleresco, ma anche andare a fare uno studio del pensiero del Duecento, quindi si potrebbe fare anche, avere anche un approccio di questo tipo. Ora, parlando di questa edizione, è una nuova traduzione che ho fatto che, come ho scritto, ridà vitalità al testo medievale per avviginarlo maggiormente a un pubblico contemporaneo. Quindi cosa vuol dire questo? Io da traduttore ho usato un metodo che in traduttologia viene definito target-oriented. Cos'è? Le scelte lessicali e stilistiche, pur rimanendo fedeli all'opera, sono rivolte a favorire la cultura e la lingua di arrivo, quindi quella del lettore. Ora, immaginiamo che è un testo appunto di otto secoli fa. L'abbiamo, passatemi il termine, un pochino svecchiato. Abbiamo limato un pochino alcune ridondanze per renderlo maggiormente fruibile. Dico questo perché solitamente l'approccio rivolto a questo tipo di test è di tipo analitico, finalizzato lo studio. Invece nel mio caso l'obiettivo primario era quello di dare al testo di ristruire la sua funzione originaria, cioè quella di romanzo, nato per essere letto prima che studiato. D'accordo? Quindi questa è stata un pochino la mia idea di traduzione. Ora, per tradurre la cerca dall'antico francese, ho scelto di utilizzare il testo stabilito da Heirich Horsker Sommer nel 1913 ed è basato su un manoscritto della British Library di Londra, l'Additional 10294. È un codice che proviene da uno scriptorium o da un monastero del nord della Francia, più o meno in Piccardia, e grazie a una delle sue miniature può essere datato intorno al 1316. Quindi questo per dare anche un'idea del tipo di lavoro che ho fatto. Al romanzo tradotto, come dicevamo all'inizio, sono state aggiunte un'introduzione di circa 20 pagine che approfondisce quello che ho risunto qui nel video ed è supportato da diverse note che rimandano al ciclo di cui fa parte o comunque vanno a chiarire dei passaggi magari un pochino più complessi nel testo. E diciamo questo è il tipo di lavoro che ho svolto. Beh, Paolo, è interessantissimo anche perché si parla di cose che sono universalmente note, ma in realtà abbastanza sconosciute. Tutti conosciamo Artù, la tavola rotonda, la ricerca del là, l'ancillotto, i personaggi e quant'altro, ma pochi sono in grado di entrare nelle motivazioni che hanno generato questa letteratura che è vastissima perché le opere dedicate a questo tema sono davvero infinite. Quindi meritorio lavoro di indagine, meritorio lavoro di traduzione e di attualizzazione di un testo di otto secoli fa e a questo punto a me non resta che ricordare il titolo e invitare tutti a correre in libreria. Il titolo è La cerca del Santo Graal, appena pubblicato da Rossini, con introduzione, traduzione e note a cura di Paolo Spaggiari, che abbiamo avuto il piacere di avere nostro graditissimo ospite. Io ti ringrazio davvero tanto. Grazie mille Maurizio, se posso vorrei fare un ringraziamento anche a mia moglie Chiara che da sempre è editor delle mie pubblicazioni, quindi corregge tutte le mie bozze, tutte le mie scartoffie. È un'instancabile collaboratrice, bravissima, tra l'altro molto brava anche a scrivere. Io spero che un giorno anche lei possa pubblicare, voi possiate leggere quello che scrive. Infatti la volevo ringraziare perché senza di lei non riuscirei a lavorare su tutti questi testi. Perfetto, perfetto. Ringraziamento dovuto e doveroso. Quindi grazie ancora per aver accettato il nostro invito. A tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa troverete tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora e a presto. Grazie Maurizio, un saluto a tutti gli amici di Italia Medievale. Grazie a tutti.